Conosciamo i vincitori del gioco dell'otto di questa settimana. Lei ha vinto? Faccio un viaggio con mia moglie, sul treno a vapore. Che stupidaggine! Come si viva la moglie! E lei? Materna. Porto tutta la famiglia in campagna. Una famiglia! Farla quello che vuole! Io invece lascio la mia famiglia a casa e me ne vado da solo a fare una crociera sulla nave più bella del mondo. Ah, che sa nuotare? No! La nave inaffondabile! Beh, si porti questa. Che me ne faccio? E le fa compagnia. Che carina! C'è sempre più gente che vince all'otto. Da oltre 500 anni. Che carina! 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 Che carina!